La nostra proposta per ridurre l'uso di pesticidi è diventata simbolo di polarizzazione, meglio ritirare questo regolamento e proporne un altro da preparare con tutte le parti interessate. La Commissione europea fa marcia indietro rispetto al divieto di utilizzo dei fitofarmaci per l'opposizione dei governi nazionali a capo dei quali si è posto il governo italiano. Abbiamo fatto una proposta sull'IRP agricola e chiediamo al resto della maggioranza, ma a tutta la politica, di sostenerla. Dobbiamo difendere l'agricoltura italiana, dobbiamo difendere il lavoro, ma soprattutto il made in Italy, dagli attacchi di questa Europa. Fratelli d'Italia e Lega stanno litigando, individuando chi è responsabile delle nuove tasse sugli agricoltori. E questo con i trattori che stanno per strada. Ma è molto semplice. La responsabilità è la loro, sia della Lega e sia di Fratelli d'Italia, perché loro hanno ristabilito l'IRPF e gli agricoltori. Tutte le associazioni del mondo agricolo non stanno aderendo a questa mobilitazione, perché capiscono che il governo si batte in Europa esattamente per le stesse battaglie che gli agricoltori stanno sostenendo. Continuano a dire che la protesta è contro altri, è contro l'Europa e non è contro di loro, ma come al solito non si assumono le loro responsabilità di avere voltato le spalle al settore agricolo. Che gli cantereste a Sanremo? Nessuna canzone. Non c'è canzone. Ci portiamo il tricolore e gli spieghiamo quello che vogliamo. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina mi sono svegliato. Quanti anni hai? Io quanti anni ho? 61. Io 42 e l'ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo. Qual è la sua canzone preferita nella storia? Cosa si ricorda con più piacere? Finché la barca va. Sì, la dobbiamo lasciare andare. Lasciamola andare, lasciamola andare. Finché la barca va, tu non è male. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, in attesa che gli agricoltori, mettiamola così, arrivino sul palco di Sanremo, ammesso che arrivino, peraltro, insomma, si dice che non sarebbe questa eventuale loro partecipazione così gradita dal governo. Per noi, ieri è andata in scena, diciamo, la prima serata del Festival di Sanremo. Una serata che si è svolta senza scossoni, senza polemiche politiche. Potrebbe essere anche l'ultima edizione condotta da Amadeus, come sentivate anche nel duetto spiritoso di ieri. Allora, per gli appassionati, in testa alla classifica, cioè Loredana Bertè, votata dalla sala stampa, insomma, dai giornalisti. Dicevamo degli agricoltori. Allora, prosegue la protesta in Europa, ma anche in tutta Italia. C'è attesa per sapere se ci sarà o meno una manifestazione domani o dopodomani a Roma, quindi nella capitale. E come ieri, in tempo reale, vi abbiamo raccontato, l'Europa, per bocca della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha fatto marcia indietro sui pesticidi. La von der Leyen, parlando all'Europarlamento, ha anche detto ci vogliono più sussidi, più incentivi per tenere i terreni incolti. Insomma, gli agricoltori vanno ascoltati. Non ci possiamo dimenticare che a giugno si vota per le europee e anche Ursula von der Leyen, per così dire, è in campagna elettorale. La maggioranza, con Giorgia Meloni in testa, si intesta in qualche modo questa retromarcia. Dice, è merito anche dell'Italia, del pressing che abbiamo fatto. Salvini dice, è finita la follia dell'Europa voluta dalle multinazionali e dalle sinistre. L'opposizione, comunque lo avete sentito nelle dichiarazioni, va all'attacco e dice, insomma, il governo si assuma le proprie responsabilità. Poi c'è tutta la questione che riguarda il Medio Oriente. Ieri il Qatar ha fatto sapere che Hamas avrebbe accettato l'intesa con Israele sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, ma Hamas vuole che la guerra termini. Sono richiesti ricevibili per Israele. Oggi Netanyahu vedrà il segretario di Stato americano Blinken. Insomma, sarà un incontro molto delicato. Lo stesso presidente americano Biden ha detto, insomma, forse le richieste di Hamas vanno un po' oltre. Questo è il quadro. Cominciamo dagli agricoltori. Oggi ne parliamo con Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Bentornato Massimo. Buongiorno, grazie. Buongiorno a te. Con noi c'è Claudio Afusani, riformista. Ciao, Claudia. Buongiorno a tutti. Saluto il vicepresidente di Copagri, Giovanni Bernardini. Copagri, cos'è? Un'associazione di aziende agricole e di agricoltori. Confederazione Produttori Agricoli. Ho qualche occasione per dare il buongiorno anche io a tutti quanti. Grazie. Per la maggioranza è con noi l'onorevole Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, il vicepresidente della Camera. Bentornato. Salve. Bentornato per l'opposizione a Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Buongiorno. Allora, intanto parto da Massimo De Manzoni. Facciamo vedere la prima pagina della Verità di oggi, che ha un titolo, diciamo, non è questo, a centro pagina. Non so se riusciamo a farla vedere tutta questa prima pagina. Trattori in marcia, Ursula in retromarcia. Che succede? Che c'è la campagna elettorale, Massimo? O qualcuno si è reso conto che ci sono delle istanze da ascoltare e tenere presenti nelle proteste degli agricoltori? Temo più la prima che hai detto. Temo che sia una mossa da campagna elettorale, anche perché la legge sui pesticidi era già impantanata, sui fitofarmaci, era già impantanata in Parlamento e non sarebbe mai passata nell'Europarlamento. Per cui ritirarla è una mossa abbastanza furba da parte della von der Leyen davanti alle proteste. La von der Leyen ha coperto quattro anni e mezzo di politica dissennata da questo punto di vista che ha portato a queste conseguenze. Quindi adesso sta cercando di tirarsene fuori, di scaricare la colpa su Timmermans, che era la faccia del New Green Deal, che è all'origine di tante di queste proteste in tutta Europa, perché si pone obiettivi assolutamente irrealizzabili e sulla pelle dei cittadini lavoratori, tra cui appunto gli agricoltori. Non so se la von der Leyen riuscirà da qui a giugno a sfilarsi dalle responsabilità che ha accumulato. Ci sta provando e le mosse di ieri e dell'altro ieri vanno in questa direzione. Allora poco fa la presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere che le cose dette da von der Leyen, i punti all'ordine del giorno, saranno esaminati dal Consiglio Agripesca che si terrà il 26 febbraio, cioè la Regione dei Ministri dell'Agricoltura Europei. C'è una data per discutere la retromarcia. Retromarcia, Claudia Fusani? Sono tutti in campagna elettorale, ovviamente, come è stato detto. Però questa cosa che sta succedendo ha tantissime facce, quindi è anche difficile raccontarla, però bisogna partire da un punto importante. Ovvero sia tutti quelli che sono andati in piazza, che stanno andando in piazza, che stanno portando i trattori in Italia, così come in altri paesi europei, non rispondono ai grandi gruppi agricoli. e alle grandi organizzazioni. Sono i piccoli, sono i piccoli che in questo mercato... Possiamo dire che sono i cobas degli agricoltori? No, per capirci. Però questa cosa è importante, perché anche chi ci ascolta lo deve capire. Quindi non sono... Ovviamente da noi questa cosa è abbastanza clamorosa, perché tutti i grandi sindacati, a cominciare da Coldiretti, con cui il governo, non solo questo, anche i precedenti governi, hanno sempre instaurato rapporti di estrema collaborazione. Sono, come dire, questi grandi sindacati... Sono un po' nel mirino, insomma, le grandi organizzazioni. Non rispondono all'esidente dei piedi, che sono schiacciati tra alcune cose che i grandi coltivatori hanno ottenuto e prezzi di mercato che sono assolutamente insufficienti per loro. Allora, aspetta, aspetta, questo è l'inizio. Poi adesso ti rito la parola che devo andare in pubblicità. Ma questo è importante da metterlo a fuoco. Non c'è dubbio che è una galassia molto variegata. Ma per esempio in Germania, che sono stati i primi ad andare in piazza, scusate questo termine, sono stati i piccoli produttori dell'Ovest della Germania e non i grandi gruppi dell'Est della Germania, dove ci sono appunto i grandi gruppi organizzati. Quindi sono i piccoli che si stanno muovendo. E questa cosa sta spiazzando i governi, sta spiazzando la Commissione europea. L'ultima cosa, per favore, non facciamo il giochino di dare la colpa sempre all'altro, ognuno si assuma delle responsabilità, perché se è vero che Von der Leyen ieri ha fatto una mezza marcenietta su questo e su altre cose, è vero che le richieste che vengono fatte in Italia sono specifiche al governo e riguardano le leggi di bilancio. Sì, perché ci sono richieste, diciamo c'è un fil rouge generale e poi ci sono singole richieste ai singoli governi. E quindi questo giochino di dare la colpa all'Europa, di dire abbiamo vinto come è successo ieri. Aspetta, adesso sentiamo, adesso vediamo cosa ha scritto Giorgia Meloni. Dopo la pubblicità. Allora, prima della pubblicità, Claudio Fusani diceva poi ci sono rivendicazioni che riguardano i singoli governi nella protesta diciamo europea che riguarda i trattori, gli agricoltori. Intanto vi facciamo vedere quanto ha scritto sui social ieri Giorgia Meloni a proposito appunto della retromarcia europea, una vittoria anche italiana, l'annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Fin dal suo insediamento infatti il governo italiano sta lavorando in Europa con grande concretezza e buonsenso per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Per questo chiuderemo in questa direzione. Poi stamattina c'è un'interessante intervista sempre a proposito delle prime cose che abbiamo detto al presidente di Condiretti, Prandini, mi pare sulla stampa. E Prandini dice guardate che noi non siamo filogovernativi ma ogni giorno lavoriamo per dare risposte alle imprese agricole. La candidata all'Europa è... Aspetta, aspetta, aspetta. Il giornalista li fa notare ma come anche voi siete nel mirino degli agricoltori che protestano e Prandini replica siamo la più grande organizzazione agricola nell'Unione Europea e abbiamo il dovere di trasformare le proteste in proposte concrete. Siamo stati tra i primi a protestare contro le politiche ambientali e folli dell'ex commissario Timmermans e in Europa abbiamo chiesto di fermare le importazioni di cibi extracomunitari nel rispetto del principio di reciprocità. E dice un'altra cosa proprio difendendosi, diciamo Prandini, le richieste di riscatto agricolo degli agricoltori traditi che sono le due sigle principali che protestano non mi sembrano proprio univo che in molti casi sono copiate punto per punto dalle nostre. basti pensare che spesso non si sono neanche accorti che il risultato era già stato incassato come per la carne sintetica. Questa è la difesa di Coldiretti. Voglio andare da Copagri, da Bernardini. Sì. Voi non siete nel mirino di questi agricoltori che protestano? No, noi siamo... Perché? Come mai? Noi anche siamo nel mirino degli agricoltori perché come avrete sentito tutti sono contro... sono a politici e a sindacali ma si fa presto a sparare su tutti piuttosto che sparare sulla più grande voglio dire. No, questo è un dato di fatto diciamo così. Diciamo che molti dei nostri agricoltori fanno parte anche della protesta nel senso che noi liberamente non abbiamo detto ai nostri agricoltori partecipate o non partecipate perché crediamo che lo spirito della protesta sia uno spirito sano nel senso che nel momento in cui nasce dal basso e quindi ci sono delle esigenze è giusto che un'organizzazione di rappresentanza come la nostra le ascolti tanto che noi siamo stati tra le prime organizzazioni a uscire dicendo che eravamo a fianco degli agricoltori nel momento in cui la protesta chiaramente è leicita e sostanzialmente dentro i canoni della democrazia. Va detto che è un settore che indubbiamente sta soffrendo da circa dieci anni. Noi l'abbiamo detto in diverse occasioni quando facciamo le audizioni presso le commissioni specifiche della camera quando ci confrontiamo con il ministro quando ci confrontiamo in generale con tutte le istituzioni lamentiamo il fatto che è un settore che soffre e la sofferenza di questo settore oltre che con la burocrazia uno dei nodi cardine sostanzialmente della politica europea e italiana è sicuramente quello della redditività. Si parlava prima la dottoressa parlava delle aziende piccole che sostanzialmente protestano sono le prime che hanno protestato. Un dato importante è che in Italia ad esempio la superficie media parliamo chiaramente di media a livello nazionale siamo intorno ai dieci ettari a livello europeo stiamo intorno ai venti ettari quindi già questo dà la fotografia di un'agricoltura diversa che è quella italiana. Va detto di più che l'Italia è costituita proprio appunto per questo da piccole aziende quindi le piccole aziende sono quelle che soffrono di più quando viene tolto un sussidio. Si parlava prima ad esempio la Germania è partita prima e proprio le piccole perché? Perché hanno toccato il carburante agricolo cosa che in Italia fortunatamente non è stata toccata almeno per ora quindi il motivo per cui l'Italia è partita un po' in ritardo è perché non era stata toccata direttamente a livello economico. Va detto che sicuramente il carburante agricolo è uno dei problemi ma va ricercata appunto la redditività che è quello il problema più grande del nostro settore. Però le hai spiegato bene aspetti però le voglio chiedere una cosa così vado da Rampelli IRPEF la famosa IRPEF che sconto sull'IRPEF vedete questo è un titolo e caro Gasolio il governo cerca i fondi peraltro per reintrodurre diciamo questo sconto ci vogliono circa 200 milioni almeno questo prevede credo un emendamento della Lega guardi su questo sfonda una porta aperta perché noi abbiamo presentato ben quattro interventi sui decreti leggi che si sono succeduti dalla fine dell'anno ad oggi quindi dal decreto energia al decreto del bilancio sul mille proro che ci è sempre stato risposto di no perché noi pensavamo che un segnale negativo come quello di togliere le sonioni agli agricoltori in questo momento ma non solo le sonioni agli agricoltori anche l'esenzione ai contributi ai giovani se noi vogliamo un'agricoltura per il futuro e anche alle donne no? assolutamente imprenditrici nell'agricoltura e ci sono molti giovani in questa protesta infatti infatti questo è il segnale lei ci ha raccontato un pochino scusi se la interrompo così sentiamo allora Rampelli non so se vogliamo partire da questo pomo della discordia in Italia dell'IRPEF no? non so da dove vuole partire però questo è motivo anche di contrapposizione politica perché l'opposizione continua a dire siete stati voi quindi assumetevi le responsabilità allora sull'IRPEF come è noto e come del resto è stato documentato anche qui c'è un tentativo da parte del governo di trovare le risorse per confermare l'esenzione dell'IRPEF agricola per le fasce di reddito più basse quindi per i soggetti a cui si faceva riferimento fin qui e cioè i piccoli agricoltori diciamo che non si può non calcolare l'intervento fatto sull'IRPEF alla luce di una cornice che prevede comunque 2 miliardi per la filiera agricola dal PNRR 830 milioni per l'incentivazione dell'agrisolare 100 milioni per i frantoi 400 milioni per le macchine agricole e via discorrendo perché la lista è lunga se volete io la prendo ma no no l'abbiamo molto lunga e poi gli interventi fatti contro il cibo sintetico che è stato importantissimo anche perché la maggioranza degli stati europei hanno seguito l'Italia su questo niet che è stato posto dal governo italiano sui tavoli di Bruxelles e molte altre questioni anche la battaglia per diciamo così respingere se ne parlava poco fa gli accordi bilaterali con altre aree territoriali del pianeta posto che penalizzando come si stava quasi per fare l'utilizzo dei fitofarmaci oggi chiamati pesticidi come se noi volessimo criminalizzare l'uso delle medicine per gli esseri umani cioè se si abusa delle medicine che vengono fatte anche con agenti chimici sicuramente c'è un danno per la persona ma se non si usano le medicine quando è necessario e nelle dosi prescritte dai medici evidentemente c'è il rischio che la persona come gli antibiotici per gli allevamenti si ammali di più e magari venga anche a morire quindi i fitofarmaci sono necessari non è invece ipotizzabile un abuso di fitofarmaci quindi ci deve essere un contenimento che deve essere però direttamente proporzionale alla capacità della ricerca di individuare soggetti come ITEA per esempio che sono percorsi da questo punto di vista particolarmente virtuosi che irrobustiscono diciamo così le piante senza l'aiuto di agenti esterni ma se questi agenti esterni dovessero cessare noi avremmo un crollo della produzione agricola nazionale e continentale e quindi il sopravvento sui mercati alimentari italiani quindi per i consumatori italiani di prodotti che invece non rispettano affatto le indicazioni europee è il solito problema che secondo me si sta finalmente affrontando per il verso giusto posto anche il ritiro appunto della norma da parte di Ursula von der Leyen è lo stesso problema che abbiamo su altri settori cioè si penalizza la produzione nazionale la produzione europea e non si mettono i dazi per impedire che chi produce in maniera una concorrenza molto complicata con i competitor europei possa invadere i nostri mercati con prodotti che non rispettano le norme europee quindi è un serpente che si morde la cuore ci sarà una proposta di maggioranza sull'IRPEF? non penso di potermi sbilanciare perché si stanno come già ho detto ricercando i fondi ma io sono ottimista per poter fare questo intervento che confermi l'esezione dell'IRPEF però voglio dire che tutte le norme l'ho detto e lo ripeto fatte dal governo hanno posto assoluta centralità nel settore che per noi era e resta primario dell'economia che è il settore agricolo e che si chiama settore primario però Bonelli fatemi sentire Bonelli bisogna anche manifestarlo concretamente se no avete parlato con una persona sbagliata avete parlato solo con Prandini allora abbiamo parlato con tutti anche con Fagricoltura anche con le altre organizzazioni la Cia la Cina tant'è scusi faccio solo questa battuta che questa protesta che se la prende in particolare con le politiche agricole europee e quindi con Bruxelles mentre in Germania e in Francia diventa anche una protesta contro i governi nazionali in Italia non è una protesta contro i governi nazionali ma lei si imbarazzerebbe se gli agricoltori fatte anche spontaneamente dagli agricoltori che protestano tengono a precisare e a sottolineare che non è una protesta contro il governo italiano quindi scusate mi fate chiedere cosa Rampelli quindi nessun imbarazzo se gli agricoltori vanno a Sanremo e raccontano le loro ragioni a me non danno nessun imbarazzo guardi la democrazia è bella perché è possibile finché non si oltrepassa come fanno Taluni a sinistra il confine della violenza quindi ogni manifestazione civile è benvenuta in democrazia a maggior ragione quella degli agricoltori Lombrigila dove sei? Sì questo è uno dei cartelli a parte c'è un altro con scritto Lombrigila ha incontrato gli agricoltori in piazza ad Avezzano quindi dove è? in piazza con gli agricoltori a spiegare le sue ragioni ad ascoltarli devo chiedere una cosa intanto Bonelli mi dica una cosa qui perché voi insomma indicate il governo come responsabile me lo spiega poi le devo chiedere un'altra cosa però aveva sentito cioè stiamo lavorando per la questione IRPEF no fanno bene a lavorare sulla questione IRPEF se avessero approvato gli emendamenti che abbiamo presentato in finanziaria che sopprimevano diciamo la volontà del governo stiamo parlando di una mese fa circa avremmo fatto cosa buona e giusta detto questo però è stata se si riescono a trovare le risorse ma Giorgetti ha detto che non ci sono risorse aggiuntive si dovrà tagliare da qualche parte vediamo dove verranno tagliati magari tagliamo qualche carro armato dei 24 miliardi di euro che Crosetto ha fatto diciamo l'investimento perché poi dice che i soldi non ci sono ma 24 miliardi di euro per trovare i carri armati si trovano detto questo potremmo sempre contrastare Putin con le cerbottane è una ipotesi insomma detto questo detto questo c'è un atteggiamento che io trovo inaccettabile da parte della Premier Meloni che di totale manipolazione e mistificazione per ovviamente non assumersi le proprie responsabilità innanzitutto c'è una prima questione quel regolamento sui pesticidi era già stato bocciato dal Parlamento Europeo io non condividevo quella bocciatura noi abbiamo votato a favore di quel regolamento e quindi lo dico in maniera molto molto chiara e netta è l'operazione della parte della Fonderlai è un'operazione elettorale pure abbastanza triste da questo punto di vista l'altra questione è che non si vuole affrontare che nel nostro paese le forze politiche che compongono questa maggioranza ma anche compreso il Partito Democratico anche il Movimento 5 Stelle gli altri suoi potenziali alleati sto facendo un discorso generale penso debba essere apprezzata l'onestà intellettuale quindi complessivamente quella riforma agricola di cui adesso Rampelli contesta l'hanno votata il 23 novembre del 2021 quella riforma agricola è stata votata Prandini che tanto parla è stata votata da tutti perché altrimenti sarebbe passata quella ben peggiore di dirmi non è così non è così non è così perché risale addirittura al commissario Juncker non è così quindi sei male informato come spesso di capita sono molto informato Rampelli sono molto informato a tal punto che il vostro responsabile Procaccini l'allora l'attuale ministro e prima rappresentante di ACR il Parlamento Europeo Fitto fecero un comunicato di grande applauso per questa diciamo proposta innovativa della riforma agricola quindi assumiamoci non mistifichiamo la realtà la realtà è che l'avete votata quella riforma agricola la realtà è che in dieci anni mezzo milione di aziende agricole non abbiamo votato la riforma agricola voi l'avete votata a favore non devi mistificare la realtà noi abbiamo votato quella riforma affinché si potesse bloccare quella peggiore fatta negli anni sì è così tant'è che quella a cui ti riferisci nasce dalla precedente legislatura europea allora chiedo alla redazione di Coffee Break di fare fact checking perché il punto è che quella riforma è stata approvata compreso da Fratelli d'Italia detto questo però posso dire cosa c'è una nota stamattina che arriva da Strasburgo che è una nota diciamo di parte perché arriva dalla sinistra dal gruppo insomma per capirci dei socialisti e democratici e questa nota dice non bisogna dimenticare che l'ultima riforma della PAC è stata approvata da tutti i governi nazionali di tutti i colori politici tra cui anche il governo di Orban sì allora se posso concludere di questo stiamo parlando perfetto quello che sto raccontando non è nulla di politico è solo la costruzione storica di quello che è accaduto voglio dire però che nel nostro paese in dieci anni mezzo milione di aziende agricole hanno chiuso per una crisi drammatica d'accordo il problema che sta accadendo nel nostro paese è che arrivano prodotti alimentari dall'estero acquistati a basso costo dalla grande distribuzione che mettono in ginocchio i piccoli agricoltori che producono anche a sotto costo e ha toccato quindi questo no però è un problema perché si è toccato un punto mi scusi su cui io sto insistendo in questi giorni adesso ci torniamo si accusa il Green Deal è un'opera di grande manipolazione inaccettabile perché il Green Deal non ha trovato alcuna applicazione le 500.000 aziende agricole non hanno chiuso per il Green Deal in questo momento mentre io sto parlando in Sicilia gli animali non possono pascolare perché non c'è l'erba perché c'è la siccità le balle di fieno che gli agricoltori le compravano per dare da mangiare alle bestie a 30 euro a balla le vanno a prendere oltre lo stretto e costano 150 euro la siccità ha fatto 6 miliardi di euro di danni e mamma non è una questione di poco conto perché è inaccettabile mi faccia dire è inaccettabile è manipolazione dare la responsabilità a chi oggi subisce gli effetti della crisi climatica adesso riprendo il concetto che voi lo sentire quindi la conclusione è che la siccità c'è per colpa del governo Meloni insomma per come l'hai costruito il ragionamento una cazzata per come l'hai costruito il ragionamento adesso andiamo a finire su blog e ti sei guadagnato il passaggio su blog con sta cazzata no 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 vi prego però Bonendi allora pubblicità sei un caffone pubblicità allora è appassionante questo tema perché incrocia molte cose torno da Bernardini perché io sulla scia un po' di quanto diceva Bonelli le voglio chiedere una cosa cioè anche in questa protesta visto che parliamo di piccoli piccolissimi agricoltori si dice a me quasi non conviene più produrre perché non mi rifaccio neanche delle spese di produzione su alcuni prodotti agricoli ma diceva Bonelli attenzione a tirare in ballo solo l'Europa perché faccio questa premessa perché c'è un discorso che secondo me investe anche siccome c'è l'industria della trasformazione l'industria agroalimentare e poi c'è la grande distribuzione non è che la questione riguarda anche questa catena perché sì le proteste contro l'Europa ma forse dovremmo capire meglio io so perché mi informo che ovviamente delle aziende anche piccolissime che fanno parte di una filiera più o meno sbarcano il lunario se la cavano altre aziende che sono fuori magari sono tante di quelle che protestano allora vogliamo un attimo chiarire questa situazione allora lo dicevo in premessa il problema madre il problema reale dell'agricoltura è la redditività indubbiamente quindi è un prodotto che costa 50 centesimi viene pagato 50 centesimi all'agricoltore viene rivenduto a 5 euro 10 euro chiaramente il valore si sposta lungo la catena sempre più a valle quindi questo è il problema vero dell'agricoltura è indubbio che dobbiamo trovare allora scusi bisogna trovare un sistema per non scardinare ma cambiare questi meccanismi il controllo sulla filiera lui non lo può dire nel momento in cui una parte del sindacato è dentro la grande distribuzione questo controllo sulla filiera non lo fai più assolutamente allora il problema del controllo della filiera è la parte più importante nel senso che se io riesco come produzione primaria quindi come agricoltore a controllare la filiera è chiaro che la ripartizione della redditività deve essere e pretendo che venga ridistribuita equamente nel momento in cui io sono strozzato dalla grande distribuzione o comunque dalla filiera perché devo fornire il prodotto per andare sul supermercato o comunque sui banconi è chiaro che a quel punto io il prodotto ce l'ho ce l'ho sul terreno quindi o lo vendo al prezzo che mi propongono dove l'Europa c'entra diciamo dobbiamo intervenire con delle norme di regolamento della filiera che consentano agli agricoltori di fare tra virgolette il proprio lavoro quindi promuovere il proprio prodotto e quindi valorizzare il proprio prodotto altrimenti stiamo a capo come vedete si sommano queste cose adesso aspetta che voglio tornare un attimo Manzoni perché poi lo diceva bene anche Rampelli cioè poi se l'Europa impone tutta una serie che cose misure che piacciono molto a Bonelli sul Green Deal diciamo misure che poi non mi permettono di competere da darmi pari con la Cina con la Meco con gli Stati Uniti con altri paesi dove vado vado a fare e questa è l'altra faccia della medaglia nel senso che è massimo uno dei modi in cui la grande distribuzione e l'industria strozza i contadini è con la concorrenza cioè avendo la possibilità di trasformare gli stessi prodotti o di vendere gli stessi prodotti che non sono gli stessi perché vengono prodotti in un altro modo ma all'occhio del consumatore sembrano gli stessi e vengono venduti a prezzo inferiore perché non devono sottostare a una serie di regole e qui torna in campo l'Europa che ne dica Bonelli ma regole anche giuste per carità di Dio ma se poi dopo l'Europa da una parte ti impone le regole e dall'altra ti impone degli accordi fa accordi commerciali con paesi del terzo mondo da cui arrivano questi prodotti è chiaro che il contadino rimane schiacciato quindi il problema è oggettivamente complesso ma non è che l'Europa non c'entri niente c'entra anche il fatto che permetti una concorrenza sleale ai contadini se tu hai concorrenza sleale sei schiacciato sei schiacciato ed è la stessa cosa che abbiamo visto sul campo del lavoro quando hai offerta di manodopera a basso costo gli stipendi si abbassano e non aumentano è esattamente quello che è successo in Italia allora un attimo due numeri due numeri allora perché sennò qui non ci andiamo a capire allora il PAC cioè l'Europa destina all'agricoltura 390 miliardi è probabilmente il capitolo di spesa più finanziario forse qualcosa in meno spalmati sul bilancio pluriennale sono tantissimi e quindi come vengono distribuiti questi soldi allora c'è un problema di distribuzione e di come dire come per noi nella vita normale disuguaglianza c'è un problema di distribuzione enorme delle risorse punto primo però la maggior parte di questi fondi li gestiscono i singoli paesi i singoli paesi cioè l'intermediazione della commissione è molto piccola i singoli paesi ma se i singoli paesi arrivo 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 sono velocissima allora questi trattori si stanno muovendo e stanno incontrando il favore della popolazione e sai perché con quale argomento che è il vero argomento principe noi noi agricoltori vendiamo a 20 centesimi quello che a te utente finale cittadino costa 5 questo argomento è verissimo allora lì dov'è tant'è che c'è un sondaggio il 65% della popolazione italiana è a favore ed è trasversale la cosa trasversale destra sinistra allora aspetta aspetta Claudia questo è molto interessante voglio vedere una cosa ai rampelli però questo è il punto e la filiera la deve controllare il governo allora vado da rampelli per questo fammi dire una cosa perché il col diretti fa parte della grande distribuzione allora noi non abbiamo ovviamente niente né contro l'industria agroalimentare italiana che diciamo poi lavora le eccellenze di questo paese né contro la grande distribuzione però c'è forse un problema o no rampelli sì sì c'è sicuramente un problema di margini diciamo così c'è un margine ampio per la grande industria per la grande distribuzione e c'è un margine che non è accettabile perché appunto si è più volte detto che di fatto la nostra agricoltura produce sotto costo quindi produrre sotto costo non è accettabile praticamente se non ci fossero i sussidi quelli del PAC europei che poi vengono riversati sugli stati nazionali e poi gli stati nazionali alimentano le filiere non ci sarebbe utile per chi fa questo mestiere se noi azzerassimo i sussidi chiuderebbero tutte le aziende agricole quindi siccome c'è un margine molto alto invece tra i due particolari soggetti citati da lei e da me io penso che il controllo della filiera debba essere rimesso a regime sicuramente è un problema serio importante su cui noi intendiamo lavorare fermo restando quello che abbiamo detto fin qui che non è che si annulla rispetto alla questione dei margini o della redditività citati anche dal vicepresidente Bernardini poco fa c'è un tema continentale dato dalle iniziative spesso spregiudicate o addirittura ideologiche astratte dell'Unione Europea di Bruxelles c'è un tema di scarsa responsabilità da parte dell'Europa quando addirittura incentiva gli accordi internazionali non soltanto sull'agricoltura anche su altre filiere industriali e si mette in castigo da sola cioè si mette all'angolo perché comunque penalizza la propria produzione io penso che l'Europa di domani nella speranza che le prossime elezioni europee non vogliono fare propaganda tratteggio uno scenario culturale non politico partitico decida di magari proseguire quello che è accaduto a margine della protesta dei agricoltori un processo di riforma per negoziare intanto con i produttori quindi con le categorie vere che consentono anche all'Europa di stare in piedi perché se non ci fossero produttori non ci sarebbe la possibilità per esempio di incassare le imposte e quindi non ci sarebbe neanche la possibilità di distribuire sussidi quindi bisogna cercare di reinvestire sulla produzione europea e questo significa non necessariamente non fare accordi internazionali io vorrei che ci fossi chiarezza su questo significa pretendere la reciprocità non fare accordi con chi non accetta la reciprocità questa parola è piena di significati se non c'è reciprocità ci devono essere i tazzi allora facciamo così adesso voglio sentire Bonelli però c'è Paolo Sottocorona buongiorno prego buongiorno intanto allora queste nuvole che stanno interessando l'Italia non sono queste che cambieranno il tempo infatti se vedete ce ne sono anche abbastanza ma di piogge non ce ne sono guardate questa zona invece che sta interessando la penisola iberica di nuvole non intense ma stanno già dando qualche pioggia quindi sono di un altro tipo di un altro tipo ancora sono queste più bianche in mezzo all'Atlantico sembrano lontane ma vediamo quanto sono lontane giornata di oggi sempre la possibilità di qualche debole piovigine spesso soltanto un po' di nuvole quindi tempo uguale a quello dei giorni scorsi domani non cambia nulla sempre qualche debolissima precipitazione ma venerdì cambia e come? perché vedete che il tempo peggiora in maniera molto marcata su tutto il nord l'alta toscana i fenomeni sono anche abbondanti anche intensi ancora non freddi poi arriverà un po' anche il freddo ma già questo sulle zone alpine ovviamente porta nevicate di una certa consistenza almeno dai 1500 metri in su in qualche caso anche 1200 inizialmente sull'Appennino il resto del centro e del sud nuvole qualche debole pioggia qui non cambia ma sabato il maltempo arriverà anche al centro e infine anche al sud dopo che sarà peggiorato il tempo scenderanno le temperature e quindi chiudiamo il cerchio grazie allora si prepari Angelo Bonelli si diceva una volta nei congressi allora dopo la pubblicità allora per utilizzare al meglio la parte che ci resta vado come promesso da Bonelli per chiedergli ancora una cosa sulla questione agricoltura e poi passiamo all'altro argomento l'Europa dicevamo lei dice io ho approvato diciamo sono favorevole a tutta una serie di misure che sul Green Deal l'Europa diciamo ha messo e per la concorrenza sleale come facciamo qual è il punto di equilibrio non ero assolutamente invece favorevole alla riforma agraria perché l'ho ritenuto un elemento penalizzante nei confronti dei piccoli agricoltori perché i sussidi vengono dati all'80% delle aziende più grandi e le bricele vengono dati ai piccoli questo è il motivo per cui noi abbiamo votato contro la riforma agraria europea il tema della concorrenza sleale è il tema dei temi bisogna avere il coraggio di dire e io lo dico che gli accordi di libero scambio sono un elemento che mette in ginocchio le economie nazionali dal punto di vista dell'agricoltura faccio un esempio noi tra poco saremmo chiamati nel Parlamento a dire sì o no al CETA che l'accordo di libero scambio verrà l'Italia e il Canada oppure il Mercosur che è l'accordo di libero scambio con America Latina noi abbiamo un problema serio nel senso che ne abbiamo realtà dove alcuni agenti penso al glifosato penso pesticidi in Brasile ad esempio sono una quantità enorme di costo del grano che è un altro delle quantità enorme ma per quale ragione ci deve essere questa concorrenza sleale in cui noi chiediamo giustamente agli agricoltori per tutelare anche ambiente e salute perché uno degli elementi che dobbiamo discutere è che l'eccellenza dei nostri prodotti è tale che noi dobbiamo difenderla la qualità dei nostri prodotti agricoli anche il fatto che l'Italia è anche capofila in Europa sul biologico ad esempio penso che dobbiamo dire no a questi accordi di libero scambio e tutelare le produzioni agricole attraverso anche l'introduzione di dazi o quant'altro io non ho problemi a dirlo io non ho problemi a dirlo perché le nostre produzioni sono produzioni che vanno tutelate e c'è un tema se io vado al supermercato cosa che mi capita molto spesso perché faccio la spesa ai miei genitori anziani è imbattermi nei limoni che vengono dal Sud Africa ma io mi arrabbio quando vado nel supermercato e vedo gli immuni del Sud Africa è d'accordo ma per quale ragione devo trovare gli immuni del Sud Africa che fanno 10.000 km e poi mettono in ginocchio le nostre produzioni l'Europa deve cambiare completamente il registro è d'accordo anche i rappelli su questo dirottiamoli tutti i sussidi che vengono dati per le auto elettriche per le pale eoliche e per il e per il posso farvi vedere una cosa dirottiamo tutti i sussidi di Manzoni visto che lei ha la vista un po' verso una certa parte tutti i sussidi agli inceneritori a chi produce pretolio e strato sa quanti sussidi diamo a queste lobby del petrolio ogni anno 21 miliardi di euro sono d'accordo diamone una parte agli agricoltori va bene va bene sono d'accordo siccome lei ce l'ha con le rinnovabili ed è proprio amante del petrolio ho finito mettiamo i soldi sulle centrali elettriche e teniamoceli i rosso bruni Andrea i rosso bruni si trovano d'accordo allora vi faccio vedere un servizio ieri il presidente di Stellantis che è il colosso automobilistico franco italiano più franco che italiano mettiamola così John Elkan è venuto a Roma dopo le polemiche roventi di questi giorni tra in particolare la presidente Giorgia Meloni e il gruppo sapete che l'amministratore delegato Tavares ha avuto un'uscita diciamo definita da alcuni infelici ha detto se non ci date i sussidi più incentivi per le auto elettriche rischiano anche le produzioni italiane insomma è una polemica che parte da lontano e ieri John Elkan ha visto il presidente della Repubblica Mazzarella ha visto il governatore di Banca Italia ha visto il ministro Giorgetti ha visto credo il comandante generale dei Carabinieri insomma qualcuno ha letto in questi incontri anche un atteggiamento diciamo non proprio amichevole nei confronti del governo e si torna a parlare per il caso Stellantis ma anche per il caso dell'Exilva di politica industriale ma lo sapete che l'Italia è un'economia prevalentemente di servizi e non industriale sentite Marco Fraddini il dibattito sulla politica industriale tende a volare alto il caso Exilva il caso Stellantis sarebbe il caso di porsi due o tre domande fatta salva la politica un'industria degna del nome c'è ancora o no? dipende si parla tanto di PIL meglio della Germania e poco meno della Francia che orgoglio però se uno guarda la composizione del prodotto nazionale scopre che la pesantezza industriale dell'essere incide solo per un quinto i tre quarti di quello che l'Italia produce genera scambia viaggiano nei servizi istituti di credito compresi campioni di profitti grazie all'aumento dei tassi e quindi senza rischio di impresa senza muovere un dito se non il nostro dal banco matto in su ci si chiede spesso seconda domanda chi abbia il primato se l'economia o la politica ora è più chiaro sopra le due c'è la finanza basti pensare allo strapotere che le banche centrali stanno avendo sull'orientamento di bilanci nazionali e familiari nel 2023 la produzione industriale italiana rispetto al 2022 si è svalutata di oltre il 2% dato dei primi 11 mesi venerdì l'Istat offrirà lo scenario complessivo e sorpresa il settore che è cresciuto di più non è il tessile ha perso in un anno quasi il 7% nell'alimentare ha lasciato due punti incredibile è quello della fabbricazione dei mezzi di trasporto quindi anche automobili ha inciso per quasi il 9% in più al secondo posto per chi è curioso la farmaceutica illusioni ottiche produrre non significa vendere si discute sulle fabbriche italiane di Stellantis che avrebbero minore importanza nel gruppo un altro mese di cassa integrazione Mirafiori non sembra casuale Exor holding della famiglia Agnelli è prima azionista di una multinazionale dove però solo lo stato francese ha quasi il 10% dei diritti di voto il nostro paese zero ed è improbabile che voglia sborsare 6 miliardi per mettersi alla pari in incentivi ne prevede un sesto praticamente meno della metà di quanto previsto per il ponte sullo stretto la chiamano politica industriale forse c'è ma non si vede perché mai l'Italia non ha più alcuna sovranità industriale detta così alla moda e la terza domanda costo del lavoro burocrazia pochi investimenti bassa produttività delocalizzazione diversificazione tutto contro semplicemente il risultato di una rivoluzione finanziaria non si compra più un'auto ma la sua rata è piaciuto Rampelli questo servizio? Sì insomma abbiamo tanto per mettere i puntini su lei perché sennò si fanno discorsi senza tener conto delle cifre lo Stato italiano questo Stellantis non l'ha chiesto dovrebbe entrare nell'azionerato di Stellantis secondo lei? Ma guardi io sono contrario a atteggiamenti dogmatici e ritengo che una economia liberale sana non si lasci traccinare da diciamo così principi astratti quindi quando l'economia in generale è in fase pre-recessiva o comunque non virtuosa non espansiva è bene che lo Stato faccia un passo avanti perché comunque vanno tutelate le produzioni è quello che è accaduto per Ilva e non l'abbiamo fatto certamente noi e noi soltanto è quello che può accadere per qualunque altra filiera industriale importante che vada salvaguardata fermo restando che lo Stato deve avere anche le risorse per farlo perché in alcuni casi invece si è parlato per esempio della necessità o della possibilità di mettere sul mercato azioni di grandi gestori e quindi quelle che vengono definite secondo me impropriamente le privatizzazioni quindi bisogna cercare di essere utili quando il mercato si espande è il momento migliore per cedere al privato quando il mercato si comprime è necessario invece che lo Stato faccia un passo avanti peraltro stamattina c'è i dati incoraggianti di MPS che si è risanata stando ai dati diffusi da MPS vi chiedo però rapidi interventi così parliamo tutti Bonelli deve entrarci lo Stato di Stellantis dipende da quello del piano industriale se è un piano industriale che ha come obiettivo diciamo quello di rendere competitivo dal punto di vista di innovazione tecnologica il settore dell'automotive in Italia come sta accadendo in Europa e che garantisca i livelli occupazionali se ne può ragionare dopodiché c'è un problema complessivo di politica industriale nel nostro paese alcuni giorni fa Giorgia Meloni è andata a Catania a visitare la fabbrica Tressangica Factory è una delle fabbriche più importanti d'Europa della produzione di pannelli fotovoltaici bifaciali che farà la concorrenza ai cinesi e ogni tanto di faccia assolutamente sì una cosa molto buona è di proprietà dell'Ene però c'è un problema l'Ene l'ha messo in vendita il 50% di quelle azioni ma com'è possibile che una delle aziende che sarà diciamo un punto di riferimento in tutta Europa se c'è una contraddizione se ne vende il 50% di un'azienda tra le più importanti e un fondo di investimento britannico il MEF partecipa a Enel al 25% comunque quindi non mi pare che già avere il 50% è un passo in avanti rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi che il 75% di Enel è in mano ad azionisti è proprietà al 100% Enel e quindi questo è un problema serio nel 50% Claudio dal tuo punto di vista tu che sei molto attento alle questioni e conosci bene le questioni della politica che significato ha la visita di Journal Can e gli interlocutori che ha visto dal tuo punto di vista innanzitutto noto che El Can dopo che Tavare si ha fatto l'esplac che ha fatto la settimana scorsa sceglie un giorno in cui Giorgia Meloni non è in Italia perché Giorgia Meloni come noto da tempo non era previsto un incontro tra i due ma però nel momento in cui tu mandi il tuo amministratore delegato Tavare sa dire quello che ha detto ovvero sia una cosa tra minaccia sfida una cosa del genere e poi comunque e comunque vieni qui e incontri il Presidente della Repubblica incontri anche Giorgetti non c'era Urso mi pare insomma il fatto che non ci siano né il Presidente del Consiglio però lui è venuto a rassicurare a dire guardate che noi quello che è in atto per quanto riguarda gli siti italiani io sono molto contenta personalmente sono molto contenta che il Canna abbia incontrato il Presidente della Repubblica che considero la persona come dire migliore che ci sia in questo paese però per risolvere il problema lui deve parlare col governo il governo non lo sappiamo però al momento Giorgetti è il Ministro dell'Economia di Giorgio Meloni ma c'entra Urso mi perdoni mi perdoni anche il MEF c'entra comunque anche il MEF ma non potete scaricare tutto sul MEF però adesso perché adesso scaricate sul MEF tutto il discorso dei contadini dell'agricoltura dipende dal MEF se troverai soldi posso chiedere anche a Massimo la sua valutazione Maggi sono Presidente del Consiglio e Ministro Magari si incontranno Massimo Beh è chiaro che la scelta degli interlocutori non è una scelta neutra aver scelto quel tipo di percorso denota una collocazione molto precisa e un tentativo di probabilmente costituire sponde per il braccio di ferro che si sta proponendo Ah braccio di ferro Sì Questo è evidente lasciami dire che sarebbe un tragico errore da parte del governo italiano entrare in Stellantis un tragico errore per tanti motivi uno perché quel tipo di industria europea grazie alle scelte che sono state fatte anche ormai è destinato a soccombere di fronte alla concorrenza che arriva in particolare dalla Cina ma non solo e poi perché la fusione che Kennedy Calcan la fusione con Renaud si farà per cui si continuerà a scostare la sua francia ma sì e i soldi che dovremmo metterci per pareggiare il conto sarebbero troppi banalmente non ci sono chiaro allora saluto David che sorri David che c'hai oggi vediamo io metto gli occhiali così allora guarda guarda qui se la tv fosse anche è un mandarino che cosa è una razza questo è un mandarino ma se la tv fosse anche olfattiva ancora non lo è ma ci stiamo arrivando aspetta che forse non si vede perché altrimenti guarda come si agita Urgu dietro le quinte allora perché Urgu dietro le quinte si agita perché non ti ho fatto vedere questo super cestone qui allora è difficilissimo distinguere quella biologica da quella invece che in qualche modo non lo è biologica è molto difficile cercheremo di farlo e parleremo di questo parleremo della nostra agricoltura di quello che finisce dei nostri piatti ma prima apriremo e qui c'ho a mio fianco uno dei personaggi del giorno che è Pasquale Tridico già presidente dell'Inps che salutiamo e che si candida esatto oggi è uscita una sua super intervista a Repubblica si candida al Sud con il Movimento 5 Stelle ma è qui in realtà per parlarci torneremo a parlarci con tutti gli altri ospiti Paola De Michele del Partito Democratico Alessandro Cattano di Forza Italia posso interromperti chiedi a Tridico se sai i costi dei prodotti che ci sono nel cestino più o meno orientativamente 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 allora di che c'è un cavolo che c'è la clementina calabrese io la ritengo una delle più buone in assolute costa oggi 2,50 al chilo 2,50 al chilo aspetti aspetti Bernardini va bene è informato no stiamo a meno del 10% che va agli agricoltori ah no va bene certo il prezzo agli agricoltori conosco prezzo al supermercato scusami scusami no non l'avete ma che vuoi fare ok il prezzo è giusto pancani no no ma mi divertiva visto che parliamo di prezzi non ok il prezzo è giusto no sto scherzando le zucchine quanto vanno chiedigli le zucchine quanto vanno che interessante se lo sapi scusa forse avete scambiato l'aria che tira per il mercato rionale che va benissimo allora ne parleremo comunque parleremo di pensione vi porteremo in Albania vi porteremo vi porteremo dove ah le Gran Canarie dove c'è la nostra passione quella dei pensionati che se ne vanno all'estero ah infatti di nuovo poi eh lo so Tridico Tridico si arrabbia ma invece noi vi porteremo la Gran Canarie poi avremo Lucio Caracciolo direttore di Limes cercheremo di capire quello che accade nel mondo poi con Linus un sapore di di musica di Sanremo di politica insomma state qui inchiodati perché ne abbiamo da raccontarvi grazie caro Andrea grazie abbraccione a tutti i tuoi ospiti grazie a Pasquale Tridico un flash Bernardini quello che è stato annunciato dall'Europa quello che sta maturando in Italia per l'IPEF basterà a quietare secondo lei la protesta? no no assolutamente no perché ripeto sono esplose oggi ma di un malessere che c'è da dieci anni quindi se non mettiamo mano a strutturare meglio a livello economico le filiere in modo che gli agricoltori possano gestire veramente la filiera non risolveremo il problema e la distribuzione del fondo europeo grazie grazie a tutti grazie a tutti c'è la regatina siamo qui domani imperterriti grazie grazie a tutti Grazie a tutti.